Salve a tutti, bentornati su Polveri e Fumetti e bentornati in un nuovo video dove parliamo di fumetti molto molto interessanti perché durante la scorsa edizione di Luca Comics Planet Manga ha fatto forse l'annuncio che personalmente potrebbe in qualche modo interessarmi un pochino di più tra tutti quelli che sono stati fatti proprio durante la Kermess Lucchese di quest'anno ovvero la nuova edizione, la Extreme Edition di Ken il Guerriero visto che casualmente io mi ritrovo qua con una copia del primo numero della stessa edizione in giapponese ho detto ma sai cosa raccatto un po' di informazioni e ve ne parlo un pochino vi mostro un po' com'è questa edizione giapponese e anche in base a quello che è stato fatto in altri paesi come Spagna, Inghilterra e Francia vi racconto un pochino come potrebbe essere questa nuova edizione anche nel nostro paese va da sé che ovviamente tutto quanto dipenderà poi dalle scelte editoriali di Planet Manga, di Panini su come pubblicare questa edizione nel nostro paese però appunto mi sono basato, ripeto, su le informazioni che ho trovato un pochino in giro anche sui siti esteri e direttamente degli editori che negli altri paesi hanno pubblicato questa nuova edizione del capolavoro di Buronson e Tetsuwara per adesso Panini ha soltanto annunciato che l'edizione si comporrà di 18 numeri esattamente ovviamente come è stato per gli altri paesi dal Giappone in avanti questa Extreme Edition è uscita ben 10 anni fa in Giappone in occasione dei 30 anni di Fist of the North Star o di Okuto no Ken, chiamatelo un po' come vebare a voi e ha direi abbastanza on time, è arrivata anche nel nostro paese, arriverà anche nel nostro paese abbastanza diciamo anche in tempo per un altro grande anniversario ovvero quello per i 40 anni della serie appunto di Buronson e Ara che tra l'altro verrà festeggiato con l'uscita di una nuova serie animata c'è stato l'annuncio proprio qualche mese fa in arrivo ancora non si sa quando anzitutto l'edizione presenta delle nuovissime copertine realizzate proprio da Tetsuwara qua vi faccio vedere anche un micro confronto tra quella che è l'edizione classica giapponese appunto la nostra Extreme Edition e l'edizione che possiedo io ovvero quella fatta da Panini in collaborazione con la Gazzetta dello Sport rimuovendo la sovra copertina c'è questo bellissimo pantone dorato su cui troneggia ovviamente il logo, la numerazione e quant'altro in bianco molto molto bello e indietro ovviamente sempre la nostra affidata Stella di Okuto che veglia su di noi e illumina il nostro cammino devo dire non mi fa particolarmente impazzire perché come vedete rimangono già dei segni abbastanza orribili di Tate mentre molto molto carina è quello che è stato fatto per la sovra copertina con un bellissimo logo con queste macchie di sangue riposte in dorato e di nuovo la costellazione dell'orsa maggiore i nuovi disegni sono veramente veramente bellissimi, a me piacciono veramente molto ci sono anche questi bellissimi dettagli in oro sul logo e la classica costellazione dell'orsa maggiore fatta in lucido appunto sullo stesso logo faccio vedere anche la costina che riporta gli stessi identici dettagli e il retro, molto molto bella, mi piace un sacco anche questo cartoncino che è stato utilizzato per l'edizione che le dà quasi un tocco di eleganza visto che in America questa edizione è stata pubblicata in cartonato ecco sarebbe interessante capire se magari arriverà anche da noi imbrossurato un cartonato rispettando magari tutta questa serie di dettagli ci sono tutta una serie di aggiunte molto molto interessanti come per esempio queste bellissime pagine a colori pubblicate probabilmente anche già in Italia con l'edizione di D-Books su carta lucida, questa molto probabilmente verrà anche rispettata come scelta anche da Panini Comics e anche tutta una serie di pagine in bicromia queste sono super super belle mi piacciono veramente molto quando arrivano anche questo genere di dettagli nel nostro paese e mi auguro che appunto anche con l'edizione italiana si rispetti anche questo dettaglio come dicevo prima questa nuova edizione sarà composta da 18 volumi contro i 27 a cui credo che siamo stati abituati praticamente sempre anche noi in Italia a scanso invece di qualche edizione per esempio quella di edizioni Star Comics come vedete il formato è anche un pochino più largo in modo da poterci permettere di godere a pieno anche delle bellissime tavole ripeto realizzate da Tetsuara ma una delle cose sicuramente più interessanti di queste edizioni è la presenza di alcuni contenuti totalmente inediti anche nel nostro paese perché sono presenti anche alcune pagine apparse soltanto su Shonen Jump apparse soltanto su rivista come per esempio questo frontespizio che adesso vado a riprendervi anche nell'edizione italiana eccoci qua come vedete a destra c'è l'edizione italiana di Panini mentre a sinistra l'Extreme Edition giapponese come vedete manca questa illustrazione manca questo bellissimo frontespizio in cui vediamo il nostro Ken combattere contendendosi la mano di Giulia con Sheen davanti a questa statua della Dea Cali e ce ne sono tantissime altre ve le mostrerò sicuramente sfogliando i volumi sono riuscito a trovare un altro di questi bellissimi frontespizzi come vedete questo è il culmine dello scontro appunto tra Ken e Sheen e girando la pagina edizione italiana torniamo esattamente al capitolo di prima mentre se facciamo la stessa cosa con l'edizione giapponese eccolo qua ci appare questo bellissimo frontespizio con il nostro Ken in sella ad una moto e il suo fidatissimo Nunchaku sempre in pugno un altro dettaglio sicuramente molto molto interessante di questa edizione che arriverà nei prossimi mesi anche nel nostro paese è il fatto che Tetsuora ha deciso di ridisegnare completamente da zero alcuni dettagli di alcune pagine probabilmente perché non gli piacevano abbastanza o probabilmente perché voleva festeggiare a Modino anche lui il suo il compleanno del fumetto che sicuramente lo ha reso più famoso il suo fumetto più più celebre purtroppo non sono riuscito a trovarne in questo primo numero però segnalatemele se le conoscete e sicuramente vi mostrerò in sovraimpressione qualche dettaglio ma ciò che sicuramente intrigherà di più i fan di Ken il guerriero di Okuto no Ken è il fatto che per la prima volta in questa Extreme Edition saranno presenti dei capitoli mai apparsi prima dei capitoli che Buronson e Ara hanno pensato, scritto e disegnato appositamente per questa edizione da trentennale di Okuto no Ken in cui ci vengono raccontati eventi retroscena che finora abbiamo soltanto conosciuto off screen per esempio questi eventi raccontati tra la fine del sanguinolentissimo scontro che c'è fra Ken e suo fratello Rao e il ricongiungimento del nostro protagonista con i suoi cari compagni altro dettaglio, anche questo direi abbastanza interessante è la presenza in chiusura di questo primo volume di un commento, credo che sia degli autori o dell'editor della serie quando uscì appunto su Shonen Jump non vorrei sbagliarmi, non sono riuscito a trovare delle traduzioni abbastanza precise però insomma è sicuramente un dettaglio che può fare anche questo molta molta gola, ripeto, ai grandi appassionati di Ken il Guerriero ripeto, non ci sono ancora praticamente dettagli riguardante come sarà la localizzazione italiana di questa bellissima edizione di Ken il Guerriero personalmente voglio aspettare di vedere un po' quale sarà l'effettivo formato con che cadenza verrà pubblicata e soprattutto a che prezzo bisogna vedere soprattutto questo dettaglio molto ma molto importante però vi ho, credo, dato abbastanza informazioni per potervi fare comunque una vostra idea per poterci fare un bel pensierino devo dire, se non costerà troppo potrei anche farcelo un pensierino vediamo, vediamo perché se bene l'edizione italiana mi basti avanzi visto che Ken mi piace abbastanza mi piace veramente molto come disegnato non stravedo particolarmente per questo fumetto però vedremo, vedremo se Panini sarà in grado di convincermi attendo dunque i vostri commenti qua sotto comprerete sì o no la nuova edizione di Ken il Guerriero? fatemelo sapere, mi raccomando i commenti come sempre sono qua sotto a vostra disposizione se vi andasse di continuare a seguire i miei gargarismi sul fumetto ci sono in descrizione anche i link per i miei canali social potete iscrivervi a questo canale laddove la cosa vi facesse piacere a me lo farebbe molto ve lo garantisco e sempre in descrizione ci sono anche i link per arrivare non solo ai miei social ma anche alla nerderia di Pavia dove sicuramente troverete ad aspettarvi una volta all'uscita questa nuova edizione di Ken il Guerriero se vi andasse, se non volete proprio aspettare di leggervi questa nuova storia in questa nuova edizione in descrizione trovate i link anche per la vecchia edizione di Panini per poterla recuperare su Amazon mi raccomando anche lì se lo faceste, lo faceste tramite i miei link da me avreste la mia più eterna gratitudine la mia più profonda amicizia io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video ciao Beli ciao 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 ciao